L'ESA, ente di sviluppo agricolo siciliano, rischia di essere sommerso dalle richieste di pignoramento da parte dei lavoratori trattoristi a tempo determinato. Questo quanto emerso nel corso di una audizione in terza commissione all'ARS, preseduta da Angelo Foti, vicepresidente dell'Assemblea regionale, e dalla quale hanno partecipato i sindacati di categoria e il dirigente generale dell'Assessorato all'Agricoltura, Dario Cartabellotta. I lavoratori chiedono il riconoscimento del lavoro a tempo pieno e non determinato e alcune sentenze del giudice, anche in secondo grado, stanno iniziando a dare ragione ai precari che hanno presentato le proprie azioni legali a partire da Caltanissetta, imponendo l'assunzione a tempo indeterminato. Adesso la valanga di ricorsi rischia di allargarsi con sentenze che stanno arrivando da tutti i tribunali della Sicilia. Ad oggi ammontano a 3 milioni le somme pignorate all'ente frutto delle sentenze che danno ragione ai primi 90 lavoratori, ma la cifra potrebbe arrivare presto agli 8 milioni in tutto, sono 340 i lavoratori nella stessa situazione.